Allora, cari miei amici, sono sempre me il Pietro Kociancic e ho avuto un bel video proprio della stazione di Amsterdam di Madelaurioport, di Schiphol, e sono per aspettare il treno che mi metterà all'Aia, come si dice in italiano, o l'Era, come l'ho voltando a me in Lombard. E due che mi vennerà a cercare la macchina a mia gira e poi andare in delle e di me cuisine. E allora, perché andrei a fare quel video qui? Perché volevo contattere un scopo, cioè che il treno è in ritardo di 5 minuti. Viene e pensa, ah sì, dell'Europa del Nord è tutto efficiente, che no, di ritardo, che non ho dei compagni di questo. E invece no. Anche che ci sono in ritardo dei treni. E mi penso che questo è una maniera per far sentire qui, tutti quei che arrivano dal sud dell'Europa, per far sentire più se accogliamo subito. Pensi, è il bel dell'integrazione. D'accordo. 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 E' finì? No. 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 Insomma, la finispevo di parla. Quel che vorrebbe di lo di, e vedete in altra roba, se in i video che veniamo e trovano qualcosa di altra, le vedete a vissù, se vorrei il tempo e la viga farò un altro video. Se le no, no, e fai niente. Ciao! Ciao, 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 adesso, perché se chi, quei chi, ma non è niente a parlare, mi assumi che come fai mucca, muccai, e allora fai una nuova. Ciao!